Sì, giusto. Questa partita domenica è molto importante per l'obiettivo della salvezza, perché giochiamo a casa, oltre l'Udinese, che è una squadra pericolosa, forte. Secondo me è quella che gioca meglio in questo campionato. Dobbiamo essere attenti a questi attaccanti, che sono forti, però dobbiamo giocare come abbiamo fatto contro l'Inter, con lo stesso atteggiamento, la stessa concentrazione. Secondo me, se giochiamo da Lecce, come facciamo sempre, possiamo vincere questa partita, perché la dobbiamo vincere, perché mancano otto partite e dobbiamo vincere almeno quattro. Io veramente questa domenica dobbiamo giocare per vincere. Per la qualificazione era fondamentale vincere questa partita, perché adesso siamo tutti a quattro punti e andiamo a giocare a giugno lì a Marocco per questo ritorno. Però questa partita non era solo una partita di calcio, perché tutta la settimana era una cosa incredibile. Il Paese si è fermato per questa partita, perché abbiamo vinto questa partita e sono veramente contento, però questa esperienza era incredibile, perché ho mai visto una cosa del genere. Lo stadio alle 10 da mattina c'erano già 70 mila spettatori, sono gente, sono entrati nello stadio senza biglietti, c'erano due o tre morti, feriti. Veramente non è stata solo una partita di calcio. Però dopo in campo noi eravamo aggressivi e abbiamo vinto questa partita che era importantissima per noi e per il Paese.